Ciao a tutti, questo è il mio primo episodio loquedo di GTA Online. Andiamo sul mio elicottero. Elicopter, elicopter, paracopter. Sto elicottero di merda, non poteva andare più veloce e quindi mi tocca velocizzare il video. Porco dio! A vero ho il paracadute. Ma è un atterraggio buono dio cane. Vediamo un po' cosa c'è qua. Ah oh ma che cazzo succede ai misteri di GTA Online? Vabbè rubiamo sta macchina già rubata. Dopo cento anni eccomi. Non fate caso al nome. Andiamo a prendere la mia moto. Ho fatto un taglio perché poi il video veniva troppo lungo. Ma che cazzo gli viene così a caso? Adesso andiamo a fare la nostra vendetta vera? Si vola porco dio. Aia che dolore. Ancora ad ammazzarmi madonna bestia. Ok bene ammazzato il primo. Vendetta vera non finirò in galera. Fuori trucio ballassi. Vendetta vera non finirò in galera. Fuori trucio ballassi. Ok ragazzi il primo episodio finisce qua. Grazie per la visione e buona vita a tutti.